buonasera buonasera io essere cinese dioponese nippo coleano filippino filippino no che filippino pulisce scalpe pulisce vetri fa badante senza offesa per i filippini ci mancherebbe altro io sono abboccatoresca a abboccatoresca cugino di grande pescatore sempre io andare giorno pescare pescare con zattala con zattala prendere zattala andare male di palombina non avere pescato niente primo giorno secondo giorno un pescato sgombli seppie alla costa avete pescato tutto questo cosa qua avere portata a casa mamma mamma contenta o bravo 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 continua così che io ma io fare succhetto di pesce e poi esserne andato lago pescato luci pescato truota pescato che si rimane di lago al sono non ricordo io comunque essere di pesa mi presentato l'importante era questo dire anche che io sono andato a fare pesca primo giorno io sprecato canna di avere provato fumare canna da pesca però avere capito che hanno la pesca non darle nessun effetto allucinante e quindi non fumare più calma ciao a tutti i ragazzi buona salata ci vediamo questa sera per la grigliata di pesce ciao